...quattro, vi ci sono oggetti, con cor field, giocaci 3 ...è e' no people... ...iusi a andare a fare... ...Frey... ...Cross... ...che breve... ...liprenda una moneta di varie su? ...è... ...lipro... ...fai fai 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 fai... ...il coro fu... ...il coro... ...il cori... ...il coro... ...il coro... Sì, bene, 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 bene. Il numero 6, il pilota inglese, campione inglese della spesa, con la MC Metro, 4 motori motrici, l'unica Il basso corso della vettura, anche se il giorno è meno competitivo nei curboni sterrati di ampio raggio dove è importante contare anche su un appunto con i due passi tra i due assali al terreno interiore il gasino che inizia con Ford RS2C del quarantene di Pese pilota ufficiale di casa Ford guardate a parte di una numerosa vale di parte mi trato di Pecca Rantanen uno sui senta nel settore del Red Cross scusate 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 due 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 Oggi pomeriggio sarà il giorno rimane se chiedere sui ufficiali. Però, secondo profeo per Natale, è libero con le vetture in ora. Sono impegnate alle prove libero, osservate, la Ford RS200, Bianca Plura. Ecco le muciche. Non lo fai con lo zoom a andare solo là? Guarda, lo voglio beccare qua. L'oracolo, eh? Non vedete. ...fai per controllare cosa abbiamo... Guarda Sabrina, è scritto di un anticipo, forse eccessivo, per quanto riguarda l'inserimento di cubo in sovrascesso. Vedete. Non ti è riuscito a posta ilAlexista, che legge quella bianca. modonna cos'entra bro riesco a beccare tutto 1990 qui nell'area 48 del Motor Show perfetta prima, perfetta per il piede con questo Occhio lo scompeso da avanti E' bello qua, è qua, è qua, è qua adesso però anche l'iPhone era bello E' bello qua, è qua, è qua, è qua Ostia è andato lungo Otto Giude è andato lungo Ho visto? Vai vai Ti sei tutto a fermare Ragazzo si incazza a fare Questa qua andava via di quello abbastanza E' una ripartizione abbastanza Sì che non ho un cazzo di accelerazione No, praticamente nulla Non hai problemi agli occhi No Che? Sì che accelera da Dio Cosa che mi hai chiesto tu? Cosa che mi hai chiesto? Ma sta scherzando qui Bello sto circuito però eh Osservatevi adesso l'oggetto di Casaport A numero 5 Buono il pendolo eh Ma qui il signor Siamo serviziosi e accrezzati Questa cosa ti inchioda i sedili eh Massimo Ma qua c'è la razzine lì eh Ma ho picchiato Ma sento adesso è un casino uscita Ma sento adesso è un casino uscita Mi resta bene la gara Prima di me Io lo tengo sempre a balle Quando ho la più vicina Becco solo una parte Mi metti che la Rai Io confido che quella è una bella uscita Ce la porti un attimo corti